Buon tardissimo caffè a tutti e oggi ragazzi siamo qui con un nuovissimo video di... vabbè non di Brawl Stars però comunque che parla un po' Allora ragazzi, cosa facciamo? Io ho questo sito, anche se non ho mille iscritti, ho le donazioni Se volete che faccio un video dove dico come averlo Come fare questo sito anche se non hai mille iscritti Arriviamo ragazzi almeno a 10 like sotto questo video Bene ragazzi, cosa stavo dicendo? Ogni euro che voi donate avrete un vantaggio in più Arrivati a 3 euro avete il mio numero e potete giocare con me in live e nei video E comparirete in un video, verrete pure salutati anche solo con un euro Bene ragazzi, ma adesso cosa facciamo? Cosa facciamo? Avevo detto che se arrivavo a 30 iscritti facevo un contest Quindi commentate sotto a questo video con tanti commenti E lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, attivate il campanile di là E condividete il video con tanti vostri amici E io estrarò uno a caso Con il video che ho fatto scorso A seconda del video scorso Se ve lo siete persi andate velo subito a vedere Bene ragazzi, quindi io regalerò a uno di voi I vantaggi di uno Della donazione da 3 euro A caso, gratis solamente E quindi questo era tutto Adesso vi faccio vedere il mio sito E quindi arriviamo almeno a 10 like sotto a questo video Se volete sapere come avere le donazioni Senza avere i vostri 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazioni Che sono veramente tante Andiamo a vedere come funziona Allora ragazzi Andiamo a incollare il nostro link Questo lo metterò soprattutto nelle live Quindi vediamo come funziona Ecco qua Vi comparirà questa schermata E potrete comparire qua Io potete anche comparire A dei migliori donatori Perché sarete gli unici Perché Vabbè Sarete gli unici Quindi potrete inserire tutto Quello che volete Da 1 a 2 A 3 Il nome che mi volete far comparire Connesso con Non è per forza Il messaggio E poi il vostro email Che è opzionale E poi Andate avanti Quindi io faccio questo contesto Quindi commentate Commentate con tanti commenti Quando vedete A tutti i vostri amici Lasciate like Perché avete più probabilità Di vincere E io vi lascio Ciao Ragazzi mi sono scordato Che se avete fatto La donazione a 3 euro Avete pure il mio numero Sarete in un gruppo Whatsapp Per lezioni online Contattatemi su Instagram Giusto Dopo Fortinet Dove volete La mia mail Contattami Ciao 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 Ciao